Sì, scatto! Sì, scatto ragazzi! Sì, scatto! Sì, scatto! Sì, scatto! C'è ridurre lo zoom? Vado manualmente? No, avanti e indietro. Sì, scatto! Mentreo, Mentreo! Vai Ligia, vai! Vai Ligia, vai! Vai Ligia, vai! Vai Ligia, vai! Voi Ligia, vai! Apri la Gaby! SORRY! Vai Ligia! Vai Ligia, vai Ligia! Che balza! Restra Restra Deta Si! SVE SVE I! Bravo! Boteo Maldita Vai Ligia! Sacramento Si può zoomare ancora di più? Non si può zoomare, che non si può zoomare. GORRE! dai ste dai ste vai di CORRE! anche la modalità Fudo allargati! allargati! GORRE! 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 Occhio 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 al gioco lo conoscete ragazzi dai che lo conoscete vai Simo vai 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 GORRE! 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 Sì! 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 Ha preso? Wow! Sì! Non ti bacca! Haiy! Palla! Sì! Sì! Minchia di lugoniata! Braa! Braa, braa! Braa, braa! Vai! C'è Lou Maldò Fitt! 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 Grande Lucina! E' una spi... 2... 1... 1... 2... 2... 2... 2... Ragazzi la cosa fondamentale sono le competenze Cazzo le competenze Voi non dovete vedere Che ci succede Chiamate una tre a posto Passaggio Ma ho capito Tu devi fare Sai quello che devi fare Eh no E' l'istinto Fitt! Chiare contro i bambini E' proprio perché si allenava Fitt! Fitt! Corre! 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 Ricchi, occhio alla fitta! Occhio alla fitta! Nel 12 Partito? Nel 12 Losca la fitta! Avanzato! Lasciela! 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 Non vieni, non vieni Ok, non vieni, non vieni Diciamo qui Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!